La doppia tappa in Irpinia di De Luca come annunciato si conclude all'ospedale Moscati di Avellino, il governatore condivide con i manager dell'azienda del capologo Irpino l'avvio della chirurgia robotica, in particolare il robot multidisciplinare modello Da Vinci con console aggiuntiva per la formazione del personale, un vero e proprio gioiellino ovviamente apprezzato anche da De Luca che dinanzi ad una platea di medici, infermieri ed alcuni consiglieri regionali presenti a Laia e Petracca mancano Petitto e Ciampi così come è assente anche il sindaco di Avellino, afferma il Moscati è oramai uno dei migliori ospedali della Campania. De Luca si toglie poi anche il sassolino dalla scarpa sull'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti indetti in Campania per fronteggiare l'emergenza Covid-19 l'Italia è un paese curioso, dice De Luca, dobbiamo spiegare perché abbiamo fatto le cose di corsa in piena pandemia. Parole di speranza sul futuro dell'ospedale Randolfi di Isolufra lo stesso fa anche il manager del Moscati, Pizzu. Per cambiare le progettualità ci facciamo gli atti formali, non ce ne sono stati quindi noi tra l'altro abbiamo investito tutti i 12 milioni di euro destinati a Solufra e ci siamo impegnati appunto a consegnare l'intero ospedale per la fine di quest'anno considerato che abbiamo avuto materialmente i soldi in mano il 7 giugno del 2021 non è passato neanche un anno, quindi penso che abbiamo fatto le cose in fretta e furia ma fatte bene perché avevamo delle progettualità già abbastanza ben definite.